Ragazzi e ragazzi, so che state aspettando le indicazioni per il prossimo esame di maturità e volevo dirvi che ci siamo. Con questo video postato sui social che il ministro dell'istruzione Marco Bussetti comunica ai quasi 500.000 maturandi le novità del prossimo esame di Stato. Saranno due le prove scritte più la prova orale, eliminato il quizzone di cultura generale, tanto odiato dagli studenti. La prima prova rimane quella di italiano, in calendario già per il 19 giugno. Gli studenti potranno scegliere una traccia tra le sette proposte. Abolita la tipologia del tema storico, potranno elaborare un tema, un saggio breve o l'analisi del testo tra le opere di due autori. La seconda prova scritta invece sarà relativa al percorso di studio, appuntamento per il 20 giugno, ma le materie su cui concentrarsi usciranno già a gennaio. Novità anche per quanto riguarda i requisiti di accesso. Per accedere all'esame sarà obbligatorio avere la sufficienza in tutte le materie, compresa la condotta, e aver frequentato la scuola per almeno tre quarti delle ore complessive. Eliminata l'obbligatorietà della prova in Valsi e lo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro. L'ultima novità riguarda infine il punteggio. Il voto finale sarà calcolato ancora in centesimi, ma verrà dato più peso al triennio. Il credito maturato nella carriera scolastica varrà fino a 40 punti, invece degli attuali 25. 20 punti invece per ogni singola prova d'esame. Ragazzi, in bocca al lupo e buon lavoro a tutti!